Torna sull'emergenza idrica Pescara. Il Movimento 5 Stelle ricorda quando propose nel 2021 un tavolo al sindaco Masci che fu dimenticato. Solo ora in piena emergenza, dicono i rappresentanti del Movimento, se ne ricorda, emette autobotti per tamponare l'emergenza. In conferenza stampa davanti al Comune la consigliera regionale Erika Alessandrini e Paolo Sola, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio Comunale a Pescara. Nel 2021 infatti avevamo alla fine di un Consiglio Comunale straordinario chiesto e ottenuto che venisse creato un tavolo di monitoraggio permanente con Comune, ACA e tutte le associazioni di categoria proprio per monitorare la situazione e conoscere preventivamente eventuali situazioni emergenziali per il prossimo futuro. Quello che oggi stiamo vivendo certifica come evidentemente nulla e tutto questo sia stato fatto e a confermarlo è lo stesso sindaco che in risposta a una nostra interrogazione urgente scrive Nelosobianco come per tre anni si sia letteralmente dimenticato della possibilità di vivere una nuova emergenza idrica come quella che poi abbiamo vissuto e in questi ultimi tre anni l'unica attività è stata quella di convocare il 18 luglio scorso una riunione con ACA e Ersi per fare un punto sulla situazione. Quindi gli unici interventi concreti sono stati quelli appunto di installare un serbatoio di 2000 litri nella scuola Virgilio in via di sotto pensando che questo potesse risolvere i disagi dell'intero quartiere Colli e quello invece appunto di ripetere costantemente come i privati cittadini non possano far altro che installarsi gli impianti autoclave. Dimenticando di fatto come in molti quartieri penso ad esempio al centro storico a Porta Nuova proprio la conformazione di questi fabbricati non consente di realizzare impianti di autoclave se non con delle deroghe che a questo punto chiediamo che sia il comune a concedere perché così come è stato fatto per i balneatori nelle scorse settimane a cui è stato consentito di installare serbatoi aggiuntivi nelle strutture fino alla fine della stagione balneare martedì nel prossimo consiglio comunale presenteremo un ordine del giorno in cui chiederemo che questa elasticità venga garantita appunto anche a tutte le attività commerciali e a tutti i privati cittadini con la possibilità appunto di installare lì dove ora non è possibile degli impianti autoclave o realizzare dei cosiddetti impianti di autoclave di quartiere.